allora buongiorno benvenuti a questa lezione di sistemi informativi aziendali l'obiettivo di oggi è quello di introdurre l'argomento dell'ingegneria dei requisiti se andiamo a osservare come viene sviluppato un software possiamo notare che si parte da quelli che sono i requisiti del nostro utente del nostro committente c'è una fase successiva di analisi requisiti seguita da quello che è il design del sistema un design dettagliato nel caso in cui il sistema sia complesso e sia necessario scendere di un teriore livello di dettaglio la scrittura del codice e poi risalendo verso quelli che sono gli aspetti più rilevanti per il nostro cliente e per ai nostri utenti il test di unità il test integrazione il test di sistema e poi il test di accettazione che normalmente viene fatto dal lato del nostro committente quindi chi compra il software fa un test per decidere se accettare o meno il software che gli viene consegnato ovviamente tutti questi test fanno riferimento a una rappresentazione un'idea di quello che dovrebbe fare il sistema i test di accettazione fanno riferimento a quelli che sono le esigenze del cliente più o meno esplicitate i test di sistema fanno riferimento ai requisiti del sistema il test integrazione fa riferimento al design del sistema per verificare che tutti i componenti del sistema possano funzionare correttamente e i test di unità al design di basso livello e poi a quello che è il codice in questo corso ovviamente noi ci limitiamo agli aspetti che stanno qui quindi le esigenze del cliente e l'analisi dei requisiti tutto il resto ci interessa poco questo però è un passaggio estremamente rilevante si tratta di un passaggio estremamente rilevante perché quello che avviene nella pratica normalmente che io parto da qualcosa che mi viene chiesto dai miei committenti dei miei clienti ovviamente con il loro linguaggio per come sono in grado di esprimersi ed è seguito da come questo viene percepito e capito dagli analisti che quindi può essere qualcosa di abbastanza diverso nella fase di design io poi posso cercare di mettere buon senso cercare di trovare delle soluzioni però ovviamente mi allontano più o meno da quello che era la descrizione del mio cliente il punto è che poi il design non sempre si riflette in termini di sviluppo e scrittura del codice in quello che si era pensato per cui alla fine il sistema viene fatto lavorare in qualche modo non necessariamente come si pensava inizialmente e il punto è che molto spesso quello che effettivamente il nostro cliente voleva era abbastanza diverso da quanto invece ci era stato raccontato o noi avevamo capito oppure come era stato modificato nel processo di sviluppo quindi il nostro obiettivo come analisti è quello di essere il più vicino possibile a questo tipo di idea cercare di avvicinarci a quella che è l'idea di partenza dei nostri clienti l'ingegneria dei requisiti è per l'appunto tutta la serie di processi e tecniche che vengono utilizzate per andare a capire quali sono le esigenze del cliente quali sono i vincoli sul sistema per come deve operare in modo da poterlo sviluppare quindi i requisiti alla fine sono sia una descrizione del sistema che eventuali vincoli che vengono messi sul sistema stesso e che quindi saranno molto rilevanti nella processo di ingegnerizzazione di design e realizzazione del nostro sistema il requirement engineering prevede alcune fasi il primo la prima fase viene chiamata licitation seguita dall'analisi dei requisiti dalla formalizzazione e poi da quello che è vmv ovvero verifica e convalida dei requisiti l'elicitation deriva dal latino elicere ed è sostanzialmente l'attività che consiste nell'andare a cercare di estrarre da le persone con cui parliamo quindi i committenti ma anche altre persone che ci possono dare informazioni su cosa deve fare il sistema quindi estrarre tutte le informazioni possibili per andare a capire al meglio le esigenze del sistema quindi l'obiettivo è andare a capire al meglio le esigenze e descriverle poi successivamente nel migliore dei modi possibili l'elicitazione può utilizzare diverse tecniche per cui passiamo da quelli che sono dei brainstorming in cui vengono messe delle idee analisi di documenti per cui io posso avere dei documenti che descrivono cosa deve fare il mio sistema e quindi posso utilizzare quelli come punto di partenza posso definire dei focus group in cui ci sono delle persone che vengono interrogate precisamente su alcuni aspetti e quindi cercano di dare la loro opinione e il loro parere su quello che deve fare il sistema posso andare ad analizzare delle interfacce già esistenti posso svolgere delle interviste con delle persone che potenzialmente utilizzano il sistema o che hanno delle esigenze specifiche che il sistema può risolvere ovviamente posso anche fare attività di osservazione quindi osservo come le persone utilizzano un sistema magari quello che io devo andare a rimpiazzare a volte con quella tecnica che si chiamano di job shadowing quindi mi metto seduto di fianco a chi utilizza un sistema e cerco di capire quali sono i limiti e quindi come andare a migliorarlo posso ovviamente sviluppare dei prototipi e raccogliere dei riscontri da chi ha utilizzato i prototipi posso fare dei workshop in cui le persone cercano di lavorare assieme per andare a sviluppare quelli che sono i requisiti oppure se ho un numero molto elevato di persone posso fare dei survey o dei questionari per andare a raccogliere le informazioni da un numero più ampio possibile di persone che possono dirmi qualcosa sul mio sistema è importante quando parliamo di licitazione e di analisi dei requisiti tenere presente la figura dello stakeholder o il portatore di interesse quindi lo stakeholder è un qualunque persona, ruolo che ha un interesse o è influenzato dal sistema attenzione che gli stakeholder includono ovviamente gli utenti del sistema che sanno direttamente coloro che usano il sistema ma anche chi ha avviato la procedura quindi il committente del sistema stesso ma anche chiunque sia influenzato dall'uso del sistema per cui qui dobbiamo andare a considerare anche aspetti etici e sociali per cui se ho un sistema ad esempio di videosorveglianza l'utente del sistema sarà probabilmente l'operatore che raccoglie i dati e lo fa il monitoraggio chi ha fatto la richiesta del sistema e lo paga è magari un qualche ente pubblico o privato ovviamente io posso avere delle persone che non sono né utenti né sono i committenti ovvero chi ha pagato o chi ha richiesto il sistema che sono influenzati quindi tutte le persone che verranno riprese hanno ovviamente un interesse nel sistema perché le loro immagini, la loro privacy sarà ovviamente influenzata dall'uso del sistema quando parliamo di requirement è bene andare a distinguere da quello che è il design quindi i requisiti e la progettazione sono due aspetti molto diversi da tenere ben separati i requisiti sostanzialmente rispondono alla domanda che cosa deve fare il sistema mentre il progetto dice come il sistema è fatto è molto importante separare questi due aspetti perché se all'interno della definizione di requisiti vengono inseriti anche aspetti che riguardano la struttura del sistema e che non siano sostanzialmente vincoli predeterminati ma siano l'esito dell'analisi o di qualche interpretazione ecco che questi vincoli e questi dettagli aggiuntivi si comportano di fatto come vincoli quindi possono andare a limitare quelle che sono le libertà nella fase di progettazione del sistema quindi potrebbero essere inseriti aspetti che in realtà non sono assolutamente necessari e che porterebbero il sistema in una direzione che non è poi quella ottimale quindi che cos'è un requisito? può essere qualunque cosa quindi una frase, una descrizione molto astratta di un sistema o di un servizio oppure qualcosa di molto specifico quindi magari qualcosa che può essere espresso tramite una forma matematica i requisiti possono svolgere diversi ruoli per cui possono essere ad esempio il punto di partenza per una una specie di richiesta di offerta in cui ho i requisiti e quindi ho tanti possibili clienti scusate fornitori che offrono delle soluzioni oppure può essere il punto di base per un contratto e quindi essere ovviamente qualcosa di molto preciso se apro a una serie di offerte è ovvio che i requisiti non possono essere estremamente precisi perché devo lasciare la libertà di chi immagina la soluzione di darmi delle varianti se invece è la base di un contratto deve essere il più preciso possibile per poter poi andare effettivamente a verificare che il lavoro sia stato fatto nel modo corretto e previsto quando parliamo di requisiti normalmente abbiamo due tipologie di requisiti quelle chiamate requisiti utente e quelle chiamate requisiti di sistema i requisiti utente sono molto spesso scritti in linguaggio naturale con eventuali diagrammi e hanno l'obiettivo di permettere a chi utilizza il sistema agli stakeholder e in generale al committente di effettivamente decidere se quello è il sistema che loro vogliono e di cui hanno bisogno i requisiti di sistema invece vengono utilizzati come punto di partenza per poi andare a svolgere quella che è la progettazione vera e propria del sistema per cui devono definire dei dettagli che saranno quelli utili per chi progetta il sistema e lo realizza per cui avrò probabilmente all'interno di un documento di requisiti sia una parte dedicata ai requisiti utente che a quelli di requisiti di sistema perché sono due livelli di dettaglio diversi sostanzialmente di quelli che sono gli stessi concetti per cui ad esempio un requisito di tipo utente il software deve fornire uno strumento per poter rappresentare accedere dei file esterni che sono stati modificati con altri tool questa è una descrizione generale che quindi chi vuole utilizzare il tool può capire ovviamente chi deve andarlo a interpretare per realizzarlo probabilmente richiede qualche dettaglio in più per cui è necessario andare a dettagliare ulteriormente in quelli che sono i requisiti di sistema per cui ad esempio quelli che vediamo sotto 1.1 all'utente devono essere fornite dei meccanismi per andare a definire i tipi di file esterno ogni tipo di file esterno può essere associato a un tool che può essere utilizzato sul file ogni tipo di file esterno deve essere rappresentato da una specifica icona sul display dell'utente devono essere fornite degli strumenti per poter andare a descrivere queste icone da parte dell'utente quando un utente seleziona un'icona che rappresenta un tipo di file esterno la selezione il risultato è quello di andare ad applicare il tool associato a quel tipo di file al file rappresentato dall'icona quindi abbiamo alcuni aspetti più di alto livello facilmente comprensibili descritti a livello di linguaggio dell'utente e aspetti molto più dettagliati che sono quelli che invece interessano chi deve andare a realizzare il sistema per cui quando parliamo di requisiti utente di solito andiamo a definire qualcosa che sarà letto dal manager del cliente da gli utenti finali del sistema da gli ingegneri di quello che è il cliente che utilizzerà il sistema da i manager di chi deve andare a gestire il sistema e eventualmente anche da gli architetti del sistema i requisiti di sistema invece vanno sostanzialmente a essere utilizzati da i sviluppatori del software i system architect e in parte per una validazione più di dettaglio a quelli che sono gli utenti finali quindi abbiamo diverse tipologie di utenti per diversi tipi di requisiti ovviamente abbiamo anche il design che è sostanzialmente l'ulteriore passo di raffinazione in cui vengono espressi i dettagli di come funziona il sistema e questi verranno ovviamente utilizzati dagli sviluppatori del software dagli architetti del sistema e eventualmente dai client engineer quindi quelle persone che hanno conoscenze tecniche dal lato del cliente che utilizzerà o acquisisce il sistema informativo quali sono le caratteristiche che il mio aspetto dà un buon insieme di requisiti? sostanzialmente quelli che vediamo elencati qua quindi devono essere corretti, non ambigui, completi, consistenti ordinati, verificabili, modificabili e tracciabili cosa significa questo? allora innanzitutto corretti ogni requisito che è definito nel nostro documento di requisiti deve essere un requisito che descrive una caratteristica che il software, il sistema informativo, dovrà realizzare quindi gli utenti o i committenti del sistema possono leggendo il requisito decidere e capire se quello è un qualcosa che a loro serve o meno i requisiti devono essere non ambigui per cui deve essere, nei limiti del possibile fatto in modo che i requisiti abbiano un'unica interpretazione quindi l'idea è che una certa caratteristica venga descritta con un unico termine perché si inizia a utilizzare diversi termini creo confusione, quindi introduco ambiguità e sostanzialmente l'importante è che i requisiti abbiano lo stesso significato per diversi lettori abbiamo visto prima che diverse tipologie di requisiti hanno un ampio spettro di persone che li utilizzano quindi devo fare attenzione a definire i termini che potrebbero non essere di ovvia comprensione a tutti in un qualche glossario in modo che il significato dei termini sia univoco i requisiti devono essere completi quindi devono contenere tutte le informazioni necessarie e ovviamente devono anche andare a fare riferimento a tutti i vincoli che vengono imposti sul sistema ovviamente quando immaginiamo i requisiti di un sistema normalmente c'è qualcuno che interagisce con un sistema che fornisce dell'input quindi la completezza dei requisiti riguarda anche il fatto che io vada a contemplare tutti i possibili input e prevedere quello che è l'output ovviamente sono completi se io ho una definizione molto precisa quindi se ho tutti i termini definiti l'unità di misura ben definite altrimenti sostanzialmente ho un livello di incompletezza che tra l'altro va a influenzare quello di cui parlavamo prima ovvero la non ambiguità dei requisiti ovviamente ci aspettiamo che i requisiti siano coerenti tra di loro quindi non devono esserci diversi sotto insiemi di requisiti che sono tra di loro in conflitto sostanzialmente non devo avere caratteristiche di oggetti reali che sono in conflitto ad esempio da una parte devo andare a dire che ho dell'interfaccia con uno sfondo chiaro dall'altra vado a dire che voglio dell'interfaccia con lo sfondo scuro ovviamente devono esserci consistenze logiche e temporali quindi se qualcosa deve avvenire dopo ecco tutte le parti dei requisiti devono andare a essere consistenti con quello e devo sostanzialmente non utilizzare termini diversi per indicare lo stesso oggetto altrimenti rischio di avere delle incomprensioni quando parlo di completezza e consistenza ovviamente sono due fattori entrambi utili ma molto spesso e sono difficili da conciliare quindi dei requisiti completi includono tutte le descrizioni tutti gli aspetti del mio sistema e sono consistenti se non ho contraddizioni in nessun modo in pratica se io ho un sistema abbastanza complesso e dettagliato è praticamente impossibile ma questo è provato matematicamente andare a fornire una descrizione che sia allo stesso tempo perfettamente completa e perfettamente consistente quindi dovrò andare a utilizzare un qualche livello buono intermedio che mi permetta di non avere ambiguità e di raggiungere un certo livello che sostanzialmente consente di andare a sviluppare il sistema informativo che voglio costruire i requisiti devono essere ordinati in base a cosa? beh, in base al valore ad esempio quindi da un punto di vista di chi richiede il sistema è ovvio che alcuni requisiti sono di un valore più alto ovvero portano alla organizzazione che utilizzerà il sistema informativo maggiore il valore per cui se è un sistema di commercio elettronico il poter andare a effettuare dei pagamenti è il requisito che ha il valore maggiore anche economico il fatto di avere un report sulle preferenze degli utenti ecco questo ha un valore ma ragionevolmente inferiore a volte è importante anche andare a elencare i requisiti in termini di necessità per cui alcuni requisiti sono essenziali quindi devono per forza essere implementati altri sono condizionali quindi li posso implementare se ci sono certe caratteristiche e altri sono assolutamente opzionali quindi non sono strettamente richiesti un altro criterio che può essere utile andare a utilizzare nell'andare a ordinare i requisiti è la stabilità quindi alcuni requisiti sono ben definiti e siamo sicuri che resteranno tali e quali o comunque con poche modifiche anche in futuro altri invece probabilmente verranno modificati molto per cui conviene magari dedicare inizialmente più attenzione ai requisiti che sono stabili e poi man mano che il tempo va avanti dedicare tempo a cercare di capire meglio quelli che sono instabili che magari nel frattempo si sono un po' stabilizzati e sedimentati i requisiti dovrebbero essere verificabili ovvero deve esserci un algoritmo che ci permetta in tempo limitato e definito di andare a verificare in maniera possibilmente oggettiva se un requisito è stato realizzato se un requisito è stato realizzato oppure no è ovvio che se io ho dei requisiti che sono ambigui ecco che è difficile andare a verificarli soprattutto può esserci disaccordo tra le due parti chi produce il software e chi invece lo acquista potrebbero avere due opinioni diverse sul fatto che un requisito sia stato implementato per cui la completezza dei requisiti e la loro non ambiguità sono importanti per poter avere una verificabilità una verificabilità che sia oggettiva i requisiti ovviamente devono essere modificabili niente è scolpito nella roccia e quindi le esigenze delle organizzazioni le condizioni al contorno cambiano per cui deve essere possibile andare a modificare in maniera relativamente facile i requisiti questo può essere fatto se i requisiti sono ben strutturati quindi so dove andare a cercare un aspetto che voglio modificare infine i requisiti dovrebbero essere tracciabili ovvero deve essere possibile capire qual è l'origine di un requisito e seguendo il percorso di quello che è il processo di sviluppo quello che abbiamo visto inizialmente questo io devo capire un requisito da dove arriva qual è l'origine quindi devo avere una tracciabilità all'indietro per cui da un requisito di sistema devo sapere a quale requisito di utente si riferisce e quel requisito di utente devo sapere a quale documento a quale intervista, a quale aspetto fa riferimento e devo avere anche una tracciabilità in avanti quindi dai requisiti del sistema devo sapere quali elementi del design eventualmente quali linee di codice vengono poi anche utilizzate per andare a realizzare lo specifico requisito in generale quando io ho dei requisiti i difetti tipici sono quelli che vengono chiamati delle omissioni quindi sostanzialmente ho dei requisiti che sono incompleti delle inconsistenze quindi ho delle contraddizioni interne ai nostri requisiti attenzione se voi immaginate le descrizioni di una pagina degli esercizi che facciamo in questo corso è ovvio che è molto difficile avere delle contraddizioni cioè rileggendo la pagina una volta uno si rende conto subito se ci sono delle contraddizioni anche se a volte possono sfuggire però per sistemi complessi i requisiti possono essere decine o centinaia di pagine quindi sviluppate magari parti diverse da persone diverse quindi è ovvio che possono esserci delle inconsistenze possono esserci delle ambiguità abbiamo già visto prima possono esserci sostanzialmente dei fatti non corretti quindi il requisito dice qualcosa che è sostanzialmente sbagliato un altro aspetto che può emergere nei requisiti è quello che si chiama la presenza di informazioni strane detta anche sovraspecificazione praticamente è quando io vado a inserire in un documento di requisiti degli aspetti che sono già di design come dicevano prima questo può andare a introdurre dei vincoli non necessari del design e quindi portare a un sistema che non è quello ottimale posso avere una mancanza di struttura quindi ho dei requisiti che non seguono un ordinamento una struttura ben definita e questo ovviamente porta ad avere dei requisiti che sono poi difficilmente comprensibili e soprattutto sono difficili da manutenere infine possono essere ridondanti la ridondanza in generale mi dà dei grossi problemi nel momento in cui io vado a modificare il documento quindi andrò a farlo evolvere in qualche modo perché le esigenze cambiano se ho delle informazioni ridondanti è molto probabile che io vada a modificare soltanto l'informazione in una parte del documento e dimentichi di farlo in un'altra e quindi è il risultato di avere dei documenti che sono inconsistenti quando parlo di requisiti di solito faccio riferimento a due categorie principali di requisiti quelli che vengono detti funzionali e non funzionali i requisiti funzionali definiscono le caratteristiche di un sistema in termini di corrispondenza input-output quindi a fronte di un certo ingresso che può essere un'interazione con un utente o un certo output quindi o un certo comportamento del sistema i requisiti non funzionali che vengono chiamati anche talvolta requisiti qualità invece vanno ad elencare una serie di vincoli vincoli su come il sistema deve comportarsi per cui ad esempio dei vincoli temporali dei vincoli sul processo di sviluppo sugli standard su alcuni aspetti di disabilità eccetera a volte si parla anche di requisiti di dominio che molto spesso ricadono nell'ultima categoria dei requisiti non funzionali e che sono sostanzialmente dei vincoli che ho nello sviluppo del sistema legati al dominio specifico in cui mi muovo per cui immaginate di dover andare a sviluppare un sistema informativo che possa trattare dei dati sensibili avrò dei vincoli che sono legati al GDPR sul trattamento dei dati confidenziali e riservati i requisiti non funzionali definiscono per l'appunto quelle che sono delle proprietà che devono essere rispettate dal sistema quindi non mi dicono esattamente a fronte di un input devo fare un output quelli sono quelli funzionali i non funzionali mi dicono entro quali vincoli devono poter funzionare il nostro sistema informativo quando parlo di requisiti non funzionali di solito mi riferisco a diversi aspetti aspetti di prodotto quindi ho delle caratteristiche ho degli vincoli scusate su quello che è il prodotto il sistema informativo che vado a sviluppare efficienza, usabilità eccetera posso avere dei vincoli organizzativi quindi le date di consegna non riguardano il prodotto ma riguardano l'organizzazione che sta dietro e che produce degli standard che devo rispettare per cui se ho la necessità di sviluppare dei sistemi critici devo seguire un processo ben definito che garantisca che alla fine il mio sistema sia sicuro utilizzabile posso avere anche requisiti vincoli esterni ad esempio dei vincoli di interoperabilità quindi il mio sistema deve poter funzionare e scambiare informazioni con un altro quindi riguarda in parte il prodotto ma riguarda soprattutto l'interazione con qualcosa altro posso avere dei vincoli etici ad esempio la videosorveglianza che vi dicevo prima dei vincoli legislativi quindi tutti questi sono diversi aspetti di requisiti non funzionali ovvero vincoli su come il sistema deve funzionare pur andando a rispettare l'aspetto funzionale di input-output che è data dall'altra parte dei requisiti quando parlo di requisiti non funzionali parlo normalmente di quelli che sono gli aspetti di qualità del software il software quando devo andare a descrivere i suoi aspetti può essere visto da diversi punti di vista abbiamo innanzitutto quella che è la qualità del processo il fatto che io sviluppi il software seguendo una serie di pratiche ben definite ad esempio che i requisiti siano definiti precisamente che siano convalidati dal cliente che io abbia fatto dei controlli che i testi siano stati svolti eccetera ovviamente questi aspetti non sono strettamente legati al prodotto software sono più aspetti organizzativi nel modello che abbiamo visto prima abbiamo poi gli aspetti più specifici del nostro sistema software interni ed esterni gli aspetti interni sono quelli che io posso andare a valutare direttamente sul sistema gli aspetti esterni sono quelli che io posso valutare osservando il sistema non a sé stante ma ovviamente immerso nel suo ambiente quindi ad esempio l'affidabilità di un sistema la posso valutare soltanto osservando il suo funzionamento e andando a vedere se ci sono dei difetti degli errori e dei malfunzionamenti che si rivelano durante l'esecuzione un altro aspetto importante che deve essere considerato è l'aspetto di qualità dei dati che non sono il software che uso ma sono i dati che vengono utilizzati dal sistema e quindi anche qui posso avere degli aspetti delle misure che vanno a definire quella che è la qualità del dato infine ho aspetti che riguardano quella che si dice la qualità in uso ovvero come il sistema sostanzialmente interagisce con i propri clienti e come può andare a essere un prodotto che ha un'alta o bassa qualità quindi dipende ovviamente dal contesto in cui il software viene utilizzato e quindi in base al contesto potrò andare a valutare la qualità del mio software in uso in quel contesto questo schema è sostanzialmente quello che viene utilizzato in una famiglia di standard ISO che è la famiglia 25.000 in cui ci sono diversi componenti abbiamo aspetti che riguardano i requisiti di qualità la valutazione della qualità in generale un modello della qualità che è quello che abbiamo visto un attimo fa quella è la base come vado a gestire gli aspetti di qualità e la misura che poi viene utilizzata per la valutazione della qualità il modello di qualità del software sostanzialmente definisce tre principali categorie che sono la qualità del prodotto la qualità in uso e la qualità dei dati quando andiamo a parlare di qualità del prodotto gli aspetti principali che vanno considerati sono quelli che riguardano la utilità funzionale l'efficienza in termini di prestazioni la compatibilità l'affidabilità la sicurezza la manutenibilità e la portabilità ovvero il fatto che il mio software corrisponda a quelli che sono le esigenze funzionali potrebbero essere in parte potrebbe essere del tutto gli aspetti di prestazioni quindi di efficienza del sistema la compatibilità con tutto il contesto in cui il software deve funzionare l'affidabilità del software gli aspetti di sicurezza la facilità o meno di manutenere e quindi modificare il software e infine la capacità di portare il software in un contesto diverso per cui ad esempio ho sviluppato un'applicazione che funziona su smartphone tipo Android vorrei e questo è un aspetto di portabilità essere in grado di far migrare portare per l'appunto la stessa applicazione in un contesto ad esempio Apple, iOS ecco quanto è facile questo aspetto di portabilità è uno dei tanti aspetti di qualità del prodotto la qualità in uso invece va a vedere quella che è l'efficacia quindi il software è in grado di permettermi in maniera efficace quindi efficace dal punto di vista mio utente di raggiungere l'obiettivo quindi di supportarmi nel fare una certa attività l'efficienza quindi quanto efficiente di nuovo dal punto di vista di chi usa il sistema il sistema stesso per cui dire se per fare una certa operazione devo fare 15 click quando ne basterebbe uno ovviamente ho una bassa efficacia perché vado sia a raggiungere l'obiettivo quindi in termini di efficacia l'ho fatto ma in termini di efficienza ho speso un sacco di tempo la soddisfazione ovviamente sì questo è legato in parte a efficacia e efficienza prima però ci sono tanti aspetti che è difficile quantificare semplicemente in termini di efficacia e efficienza quindi normalmente gli aspetti di soddisfazione dal punto di vista dell'utente sono presi in considerazione separatamente dai due precedenti la sostanzialmente libertà dal rischio quindi il fatto che il software non ponga dei rischi non per il software stesso ma esterni quindi non rilascia informazioni non necessarie quindi termini di sicurezza non ponga a rischio le persone per cui magari il software che utilizza qualche che comanda qualche strumento fisico e quindi può mettere a rischio le persone e poi l'ultimo è che la copertura di contesto ovvero il software può essere utilizzato in vari contesti più o meno ampi in cui è necessario andare a permettere l'utilizzo del software in condizioni leggermente diverse da quelle magari iniziali di partenza quindi il fatto che l'utilizzo del software possa essere fatto in tanti contesti o sotto contesti diversi questo è uno degli aspetti che vengono visti in quell'ottica di copertura del contesto ovviamente voi non dovete conoscere a memoria tutte le qualità e i dettagli ovviamente le principali caratteristiche sì ma il dettaglio di questo standard di qualità è molto importante perché può funzionare e funziona effettivamente quello il suo obiettivo come una specie di linea guida un template che potete seguire per andare a elencare tutte quelle che sono le caratteristiche importanti per un software quindi potete prendere le caratteristiche di qualità del prodotto e di qualità in uso e andare una per una a capire che cosa è rilevante per il software per il sistema informativo che dovete andare a specificare quando vengono specificati dei requisiti non funzionali è abbastanza difficile andare a descrivere per cui molto spesso una possibile tecnica è quella di andare a separare i requisiti non funzionali in due aspetti un obiettivo o goal che è l'intenzione che sta dietro quel requisito non funzionale e una misura un requisito misurabile di come voglio andare nel dettaglio a descrivere quell'aspetto non funzionale per cui da un lato ho l'aspetto più spicciolo del requisito stesso dall'altro ho un goal quindi un obiettivo più alto i goal molto spesso sono utili per poter andare a interpretare nella maniera corretta quelli che sono requisiti invece spiccioli per cui ad esempio un goal di livello sistema è il sistema deve essere facilmente utilizzabile da dei controllori esperti e dovrebbe essere organizzato in modo da minimizzare gli errori dal lato utente ok quindi questo livello di obiettivo di alto livello in termini di caratteristiche specifiche un controllore esperto dovrebbe essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema dopo un totale di due ore di addestramento e dopo l'addestramento il numero medio di errori compiuti da utenti esperti non dovrà eccedere i due al giorno quindi se io mi limitassi soltanto a questo requisito specifico avrei difficoltà nell'andare a capire qual è il contesto globale quindi potrei non interpretarlo nel modo corretto avendo anche il goal mi è chiaro qual è l'intenzione generale quindi sono molto facilitato nell'andare a capire esattamente perché è dato quel requisito e quindi come deve essere interpretato quando ho dei requisiti non funzionali posso andare a anzi dovrei andare molto spesso a definire quelle che sono delle misure quindi posso avere tante proprietà diverse nel mio sistema e utilizzare delle misure più specifiche quindi ad esempio in termini di velocità o di efficienza posso avere il numero di transazioni al secondo il numero di risposte dell'utente al secondo il tempo di refresh dello schermo non so in facilità di uso il tempo necessario di addestramento in termini di affidabilità il numero di l'intervallo medio tra un fallimento e l'altro o la probabilità che il sistema non sia disponibile oppure la frequenza con cui avvengono dei fallimenti del sistema tutte queste sono delle misure che io posso andare a definire per specificare quelli che sono gli aspetti di qualità possibilmente quelli che sono definiti nello standard ISO perché hanno una definizione molto precisa e ci sono delle misure associate che ci guidano nell'andare a definire quelli che sono i requisiti di qualità molto spesso quando parlo di requisiti funzionali non funzionali il rischio è di utilizzare un linguaggio naturale non molto preciso e quindi sostanzialmente avere dei problemi di mancanza di chiarezza che non mi permettono di andare a capire bene il requisito e poi di valutarlo successivamente posso avere delle confusioni quindi se uso delle frasi linguaggio naturale quindi non ben strutturati posso rischiare di mescolare all'interno dello stesso requisito aspetti funzionali e non funzionali con il risultato di non capire bene dove sono gli aspetti di funzionalità e dove sono i vincoli che devo rispettare oppure posso avere quello che è un'amalgama di diversi requisiti che vengono messi tutti assieme e quindi sono difficili da andare a districare e valutare in maniera separata quando definisco i requisiti quello che normalmente faccio è quello di andare a definire un documento dei requisiti in cui vado a includere tutti gli aspetti importanti e quindi posso descrivere gli aspetti funzionali non funzionali i livelli più alti di requisiti utente e gli aspetti di requisiti del sistema per fare questo posso utilizzare ad esempio una traccia fondamentale che è lo standard 830 del IEEE in cui in realtà questa è la versione vecchia c'è la versione più nuova che è lo standard 2948 del 2011 che è un po' più articolato che definisce una struttura che posso seguire come punto di partenza per un documento dei requisiti per cui ho una prefazione un'introduzione che mi dice di cosa tratta il mio sistema un glossario per la definizione dei termini e poi ho la definizione dei requisiti utente quindi quelli di alto livello intesi per essere a un livello intermedio comprensibile un po' da tutti i partecipanti e poi ho gli aspetti di sistema quindi l'architettura del sistema quindi quali sono i componenti principali di nuovo non sto andando a definire il dettaglio di come verrà realizzato il sistema ma quelli che sono i componenti principali da un punto di vista di chi utilizza il sistema e poi ho la specifica dei requisiti ecco questi sono i requisiti di sistema che verranno utilizzati come punto di partenza da chi andrà a progettare il sistema e realizzarlo posso avere dei modelli il modello di processo il modello informativo che vediamo in questo corso ecco trovano il loro posto lì e danno un dettaglio ulteriore possiamo avere un aspetto che riguarda l'evoluzione del sistema che è qualcosa da utilizzare come linea guida per capire quali sono gli aspetti a cui prestare più attenzione perché lì vado a indicare come potrà in ipotesi evolvere il sistema in futuro e poi ovviamente ho appendice e indice con tutte le aggiunte che possono essere necessarie ovviamente questa è una struttura molto generale poi gli aspetti di sistema possono essere descritti in vari modi ma questo è il punto di partenza io poi vado a utilizzare questi diversi capitoli se necessari andando a dettagliare quelli che sono gli aspetti del mio sistema però questa struttura e anche gli aspetti secondari che sono descritti nello standard che io non vi riporto qua sono utili come linea guida per andare a cercare di non dimenticare nulla tra gli aspetti che descrivo andando a scrivere il mio documento di requisiti questo tipo di requisiti è molto dettagliato e a volte può essere comodo andare a utilizzare una versione diciamo così ridotta di un documento di requisiti in cui in maniera un po' più leggera vado comunque a indicare le informazioni necessarie ed è una struttura di un documento più adatta a un sistema informativo che ha sistemi software ad esempio critici ad esempio il software che gestisce un aereo o il sistema di frenata di un'auto eccetera che invece devono essere specificati in maniera il più precisa possibile quando ho un sistema informativo quindi ho sostanzialmente l'interazione con l'utente che è preponderante può essere utile avere una struttura del documento più leggera come quella che vediamo qua dove ho una prima sezione in cui ho lo scopo del mio sistema e quello che è il contesto scopo in inglese sta per contesto la definizione di termini quindi sostanzialmente il clossario esattamente come nell'altro perché abbiamo detto che per evitare l'ambiguità devo avere una serie di termini potenzialmente ambigui definiti in maniera precisa quelli che sono i casi di uso una tecnica che vedremo successivamente quindi come il sistema può essere utilizzato per andare a soddisfare le esigenze degli utenti la tecnologia che è da utilizzare quindi sostanzialmente i vincoli tecnologici gli aspetti non funzionali del mio sistema altri requisiti quindi tutti gli aspetti di qualità ad esempio e poi backup umano quindi se il sistema non funziona come faccio manualmente a fare le cose quali sono gli aspetti legali politici o di organizzativi che sono rilevanti nello sviluppo del sistema software quindi quando parlo di scopo e contesto devo andare a dire qual è il contesto generale in cui funziona il mio sistema e qual è il suo obiettivo chi sono gli stakeholder quindi chi è interessato al sistema chi è influenzato dal suo uso cosa c'è nel contesto del mio sistema e cosa invece è fuori quindi il mio sistema dovrà nel suo rilascio includere anche non so la gestione dell'autenticazione oppure un qualcosa che esiste già a livello aziendale quindi io lo integro semplicemente il glossario deve andare a definire chi sono gli attori principali quali sono gli obiettivi e i casi d'uso devono andare a dire nel dettaglio quali sono le tipologie di utenti che andranno a interagire con il sistema come interagiscono con il sistema quindi quali informazioni ad alto livello si scambiano e quali sono i casi d'uso sui casi d'uso poi torneremo più avanti perché esiste una tecnica ben precisa per andare a descrivere i requisiti in termini di casi d'uso gli aspetti tecnologici quindi quali tecnologie devo utilizzare perché magari sono compatibili con il sistema oppure devono garantire un'interoperabilità con sistemi che già esistono all'interno della mia organizzazione altri requisiti sono ovviamente tutti gli aspetti non funzionali il processo di sviluppo che regole devo andare a soddisfare gli aspetti di performance gli aspetti di operatività di sicurezza di documentazione del sistema di usabilità del sistema di manutenzione e portabilità e altri aspetti che magari in questo momento non sono ancora noti ma prima o poi saranno noti e saranno necessari sarà necessario andare a considerare quindi inizio già a mettere le mani avanti dicendo attenzione prima o poi questi aspetti dovranno essere gestiti e infine per gli aspetti umani di backup umano aspetti legali eccetera come dicevo prima ci sono tutta un'altra serie di aspetti che vanno a impattare l'organizzazione quindi in generale quando devo andare a definire i requisiti è bene definire un formato un template per utilizzare i requisiti quando lo descrivo devo utilizzare un linguaggio il più possibile consistente per evitare ambiguità e permettere la legibilità e cercare di strutturarlo bene andando ad evidenziare gli aspetti importanti e soprattutto devo cercare di utilizzare un linguaggio che sia facilmente comprensibile specialmente nella parte di requisiti utente sia facilmente comprensibile da chi leggerà quel sistema e leggerà quei requisiti e dovrà sostanzialmente dirmi se vanno bene se corrispondono a quello che sono le sue esigenze oppure no questo è sostanzialmente quello che riguarda la panoramica dell'ingegneria di requisiti di cosa serve e come di solito viene fatta e come dovrebbe essere svolta all'interno di un sistema di sviluppo di un sistema informativo